Buongiorno a tutti, mi chiamo Simona Nava, sono un medico chirurgo specialista in ginecologia d'ostetricia e da diversi anni ormai mi occupo della salute proprio durante i primi mille giorni di vita del prodotto del concepimento che poi diventerà il nostro futuro, le nostre generazioni future. Ora sono esperte in ecografie ostetriche e nella cura della gravidanza e ho fatto dei ragionamenti ultimamente su tutto ciò che a livello ministeriale di esami, raccomandazioni in gravidanza ci viene proposto, però davvero non c'è nulla che riguardi come può essere inquinata una gravidanza, una vocita, uno spermatozoo e poi lo stesso terreno d'accoglienza della gravidanza che è l'utero materno. Non ci sono esami, onestamente non c'è nessun esame di laboratorio o di diagnostica strumentale come con l'uso degli ultrasuoni che ci permette di intuire il grado di tossicità all'interno dei due gameti e nel prodotto del concepimento, nell'utero materno. Quando noi facciamo le ecografie e vediamo che un bambino ad esempio ha sviluppato il labbro leporino o la spina bifida, facciamo la diagnosi di qualcosa che è già avvenuto, non è una prevenzione primaria. Ora tutti sanno che ad esempio la carenza di acido folico può indurre queste malformazioni di cattiva chiusura del tubo neurale o delle labbra del bambino. Ora nessun esame raccomandato a livello ministeriale in termini di carenze nutrizionali o peggio ancora di presenze di tossicità come potrebbe essere il bisfenolo, come potrebbero essere gli idrocarburi, i pesticidi. Bene, io è da un po' di tempo che utilizzo un esame che usa una biorissonanza cellulare attraverso il prelievo di un semplice gruppo piccolo, un gruppetto di 3-4 capelli con annessi i bulbi, quindi le cellule, che un po' sono anche le nostre antenne, io riesco a dimostrare in qualche modo o intuire, forse è il termine più corretto, se quelle cellule sono o carenti di valori nutrizionali davvero importanti come l'acido folico, come un sacco di sali minerali o di vitamine o, la cosa che più mi piace perché è l'unico test che me lo permette vedere se quel corpo che sto analizzando è inquinato da idrocarburi o addirittura da campi elettromagnetici, tanto dannosi nel processo riproduttivo, quindi il nome di questo test è S-Drive, usa la biorissonanza, il prelievo è semplice, indolore, si strappano solo proprio un ciuffetto di capelli, è molto semplice da eseguire e anche da spiegare, è molto ben poi rifertato, quindi davvero mi sta dando una mano questo tipo di test a approfondire l'anamnesi delle mie pazienti, soprattutto quelle che hanno alle spalle un percorso di infertilità, di poliabortività e davvero a volte io risolvo delle situazioni che non avrei potuto immaginare con nessun altro test.